Per me ogni gara è un esame di maturità, non è solo esclusivamente Alessandria, forse lo sarà ancora di più la gara col tutto cuoio. Alessandria sappiamo che andiamo ad affrontare in casa loro quello che ha detta di tutti è l'organico sulla carta più forte del girone, è a punteggio pieno, lo sta dimostrando, ha tante alternative, ha giocatori che hanno fatto cose egregie anche in categoria superiore, è un allenatore che tutti conosciamo, quindi sappiamo questo, sappiamo anche che vorremmo vendere molto cara la pelle, ma che abbiamo anche la necessità di esprimerci al massimo delle nostre possibilità per poter uscire dal Mokagata con un risultato positivo. Qualcosa potrebbe anche cambiare, però chi sta meglio gioca in una formazione non sarà tanto tanto lontana da quella che ha giocato, che è partita dall'inizio nella gara contro il Siena, facciamone una per volta e poi vedremo come si uscirà. È chiaro che questa, avendo un viaggio di 5-6 ore prima e soprattutto di 5-6 ore dopo la gara nel rientro, peserà sicuramente molto di più rispetto a quello che può aver pesato invece la gara contro il Siena. È chiaro che se contro di loro per scelta ti difendi tanto basso diventa problematico, poi magari saremo costretti a farlo per la forza del nostro avversario perché ce lo imporrà, perché ci costringerà a difenderci perché non riusciamo a venire fuori. Però dovremo essere bravi a lavorare di squadra in entrambe le fasi, dovremo essere bravi ad accompagnare l'azione in fase offensiva perché se rimani lungo, se non riconquisti qualche seconda palla, se non sei bravo ad accorciare subito, come non lo siamo stati nella prima frazione con il Siena, hanno giocatori che in situazioni di uno contro uno diventano letali, come così in fase difensiva. Se non avremo il supporto dei giocatori davanti non ci possiamo permettere nella gara di domani che nessuno faccia il proprio compito in fase offensiva e in fase difensiva. Abbiamo la necessità assoluta che si riesca a giocare di squadra e che ogni giocatore sia totalmente partecipo e totalmente positivo in entrambe le fasi. Solo così si può uscire dalla Mokagata indegni.